Benissimo, ben ritrovati a questa ultima lezione del corso sugli script bash, dopo un lungo percorso siamo giunti finalmente alla lezione numero 17, che precede un video finale nel quale vi presenterò, così commenterò, lo script che ho preparato con il quale ho voluto raggruppare un po' tutto quanto abbiamo imparato durante tutto il corso. Ho voluto includere il più possibile di quelle che io ho chiamato mattoncini per costruire uno script con un certo senso, un certo costrutto, ma questo lo vedremo appunto nel prossimo video conclusivo al di fuori delle lezioni. Per quanto riguarda le lezioni invece abbiamo ancora un ultimo sforzo da fare ed è appunto affrontare questa lezione numero 17, nella quale ci dedichiamo a le diverse modalità per far partire, per eseguire, per far iniziare l'esecuzione dei nostri script. Durante tutto il corso abbiamo visto un modo, tra virgolette, manuale di far partire gli script, cioè richiamandoli direttamente con il comando bash, quindi con il motore dedicato alla interpretazione del nostro script, del codice che noi abbiamo scritto. E giusto per richiamare il tutto, alla mente, per esempio usiamo lo script numero 14 che è quello tutto bello colorato e per richiamarlo cosa abbiamo fatto durante tutto il corso abbiamo usato il comando bash, quindi del motore bash, spazio, il nome del nostro script, enter e lo script parte e funziona e fa il suo lavoro, come vediamo qua. Ecco, tuttavia non è indispensabile, non è obbligatorio, non è l'unica opzione questa per poter usare il nostro script, ma bensì ce ne sono un paio d'altre che sono più, diciamo così, carine, più automatiche, più integrate nel nostro sistema Ubuntu. Una delle quali è rendere eseguibile il nostro script, ecco, concentriamoci sempre su questo script 14 che appunto fa un po' di effetto colorato, abbiamo preso questo, puliamo il terminale, ecco lo script 14, eccolo qui nella mia cartella del corso. E in questo momento non è direttamente eseguibile, infatti se faccio doppio clic, come abbiamo fatto durante tutto il corso, si apre nell'editor di testo, perché appunto ormai sappiamo che il codice di uno script bash non è nient'altro che un file di testo normalissimo, ok, con l'estensione .sh, ma fosse .txt cambierebbe poco, a parte la colorazione della sintassi e l'evidenziazione della sintassi. Quindi come renderlo eseguibile in modo più pratico, più immediato, volendolo usare nella nostra interfaccia grafica? Allora facciamo tasto destro e apriamo le proprietà del nostro file, del nostro script. E ci si aprono ovviamente il dialogo delle proprietà e accediamo alla scheda permessi, eccolo qua, qui ci sono tutti i permessi su questo file che abbiamo con la nostra user, ma c'è un'opzione qua in fondo che è proprio quella che ci interessa, è consentire l'esecuzione del file come programma. Questo è il trucco, quindi attiviamo quest'opzione, facciamo chiudi e adesso il nostro script 14, che è sempre riconosciuto come script shell in Nautilus, nel file manager, è diventato eseguibile al doppio clic, praticamente io faccio doppio clic ed ecco che esce, comunque per sicurezza esce sempre questa finestra che ti chiede se veramente vogliamo eseguirlo, se vogliamo mostrarlo o eseguirlo in un terminale. Allora, cos'è la differenza? Vabbè, l'annulla è il più banale, rinunciamo, abbiamo sbagliato, rinunciamo. Doppio clic di nuovo, mostra è la stessa cosa che aprirlo nell'editor di testo, quello che abbiamo sempre fatto fino adesso, quindi mostra semplicemente non lo esegue ma ce lo apre nell'editor di testo. Ricominciamo, altro doppio clic, esegui, esegue il nostro script però non aprendo un terminale e quindi se io faccio esegui, semplicemente, non vediamo nulla. Lo script è stato eseguito ma non vediamo nulla, questo perché? Perché abbiamo visto che il nostro script necessita di un terminale per mostrarci il suo risultato, ovvero, vedete qua, tutto l'output, il risultato dello script in realtà è a terminale, è previsto con i vari comandi echo di essere visualizzato in un terminale, quindi se facciamo esegui, il pulsante esegui implica che si tratti di uno script che non necessita di un terminale o non necessariamente di un terminale per funzionare, quindi deve mostrare qualcosa al di fuori del terminale o eseguire un'operazione o fare apparire altre finestre o qualcosa del genere, quindi esegui, in realtà se lo facciamo quando tutto lo script è basato sul terminale, in realtà dietro viene eseguito ma non vediamo nulla. Ecco perché c'è l'ulteriore opzione esegui nel terminale. Faccio eseguire nel terminale, si apre il terminale però ecco si è chiuso subito perché lo script, in questo caso l'esempio 14, parte, fa tutti i suoi echo colorati e poi finisce, quindi si chiude immediatamente il terminale. Ecco che qui occorre l'accortezza, volendo usare questo script in questo modo naturalmente, quindi facciamo doppio clic, mostra, quindi correggiamo un attimo il nostro script, possiamo per esempio introdurre un comando di pausa in fondo in modo che si fermi l'esecuzione prima di essere terminata e quindi cosa succede a questo punto? Noi salviamo il nostro script, torniamo qui, facciamo doppio clic, esegui nel terminale ed ecco cosa succede, che il comando read impedisce allo script di finire immediatamente, quindi abbiamo un terminale aperto con lo script ancora in esecuzione perché c'è il comando di pausa, il read che ce lo blocca, quindi al prossimo enter il terminale si chiude perché è finito lo script. Ecco, quindi una prima possibilità per integrare questo script meglio nell'interfaccia grafica Unity che usiamo tutti i giorni, ovvero laddove noi abbiamo il nostro script facciamo semplicemente doppio clic, scegliamo la modalità di eseguirlo o semplicemente esegui o esegui nel terminale e avremmo così un primo risultato più, diciamo più immediato che non, dover aprire il terminale e posizionarci dove lo script è archiviato sul nostro disco con il bash davanti e enter eccetera come abbiamo sempre fatto finora, quindi è più immediato, una volta che, ripeto, abbiamo dato il permesso di essere eseguito questo file diventa immediatamente eseguibile e questa è una possibilità. La possibilità per la quale ho creato questa, ho previsto questa lezione 17 in realtà non era questa che è una possibilità intermedia ma bensì quella di creare un vero e proprio lanciatore del nostro script. Il lanciatore è un file particolare con estensione .desktop che in ambiente GNOME vuol dire proprio le icone che permettono di far partire i programmi che sono anche quelle che vediamo qui per esempio sulla sinistra nel lanciatore dei Unity, ecco le icone qui del browser di Nautilus, del programma delle note eccetera eccetera tutti questi sono lanciatori in realtà, dietro queste icone ci stanno dei file .desktop che lanciano il programma tal dei tali e questo è ancora più pratico, perché? Perché lo vediamo fra un attimo. Allora, come si crea un lanciatore? Niente di più facile che seguire un modello di un lanciatore già esistente Allora, mettiamo icone anche questo terminale, va? Allora, un modello di lanciatore, io ve l'ho messo a disposizione fra dentro nel vostro archivio compresso che vi ho dato nel primo video di questo corso ve l'ho già messo a disposizione, lo sapete, lì dentro c'è un modello di lanciatore che è questo punto desktop, vedete? Punto desktop ecco, aprendo questo questo file che essendo un file un po' particolare diciamo che col doppio clic per non far partire qualcosa che non si vuole è meglio trascinarlo nell'editor adesso qui l'ho già aperto, quindi si apre l'editor di testo e che sia reso eseguibile o meno questo file punto desktop è meglio trascinarlo nell'editor così non c'è dubbio perché il doppio clic non è detto che faccia aprire l'editor, magari fa partire un programma che non si vuole comunque questo è il modello di lanciatore voi l'avete a disposizione, lo aprite nel vostro editor di testo e vedete che ci sono delle delle parole, dei parametri preconfezionati già pronti che io ho compilato con un esempio naturalmente con il nostro esempio questi qui in verde ecco vedete che tra l'altro l'editor di testo g-edit opportunamente riconosce l'estensione punto desktop qui in fondo nella barra di stato dell'editor qui in fondo vedete punto desktop che è un tipo di file che anche lui ha la sua sintassi evidenziata colorata vedete un po' come l'SH che è per la shell anche i punto desktop hanno la loro evidenziazione di sintassi quindi c'è un paragrafo desktop entry che è fisso marroncino e poi in verde i vari parametri del lanciatore che adesso li vediamo ad uno ad uno allora il lanciatore anche lui quando sarà pronto necessiterà per poter funzionare di essere messo impostato come eseguibile quindi bisognerà attivare questa opzione nei permessi delle proprietà del file desktop esattamente come abbiamo fatto con il file numero 14 dello script bash per mostrarvi il doppio clic la partenza a doppio clic si deve fare anche con il lanciatore ecco appena il lanciatore appunto detto che è un file particolare ecco voi vedete in questo momento come è scritto il lanciatore il nome punto desktop appena io attivo l'opzione di poter essere eseguito vedete cosa succede il lanciatore cambia nome e lo vedremo fra poco ecco perché come fa a cambiare nome perché il lanciatore interpreta i suoi parametri che gli abbiamo messo qui in verde qua dietro nel file e c'è anche la possibilità di legare un'icona al lanciatore proprio l'icona del programma che è quella che vediamo qui per esempio vedete qui i vari programmi lanciati aperti o meno hanno la loro icona quell'icona qui è quella che è legata nel lanciatore così come io ho legato l'icona di Ubuntu la vedete qui eccola qui l'icona di Ubuntu ho scelto di legare questa ops ecco l'icona di Ubuntu è un nome diverso in realtà dal file punto destro perché gli si può dare un'etichetta diversa se io tolgo di nuovo l'opzione di essere di poter essere eseguito vedete che torna a chiamarsi come il file originale corso script bash punto destro quindi diciamo così come regola di lavoro si potrebbe dire tenetelo non eseguibile fin quando non è pronto il vostro file qua dietro fin quando non l'avete parametrizzato come si deve qua dietro una volta che l'avete fatto che è pronto potete attivarlo come eseguibile doppio clic e lo potete provare adesso fra un attimo lo facciamo allora flag di esecuzione ve l'ho spiegato quindi il suo scopo è rendere attivo questo destro perché se faccio doppio clic così adesso in realtà non fa partire il nostro script ma solo quando è eseguibile poi proprietà version se si desidera si può indicare una versione dello script vabbè io ve l'ho messo è opzionale non è obbligatorio per far funzionare il tutto ho messo versione 1 va bene versione del programma o del nostro script opzionale poi proprietà name dare il nome del programma che apparirà sia nel file manager sia nella dash di unity name nel mio caso it ch è la versione nella lingua specifica del vostro sistema ecco name è quel nome vedete corso script bash che appare appena diventa eseguibile il file destro è quello che abbiamo visto prima lo faccio ancora velocemente ecco appena ecco vedete corso script bash in realtà è questo name che prende il sopravvento appena diventa eseguibile il file punto destro quindi il file punto destro può chiamarsi pippo plutto paperino e poi potete mettere il nome effettivo che volete fare apparire dappertutto nel vostro sistema ubuntu dappertutto vi apparirà in realtà questo nome quando è attivato ecco ci sono due name name con nulla e name con tra parentesi quadre della lingua di sistema se diciamo che se il vostro sistema ubuntu lavora in una certa lingua e quella lingua non è riscontrata non è specificata nel file punto desktop allora prende quello name senza lingua specificata quello generico diciamo che il nome del programma name uguale nome programma è quello che vale è sempre come ultima soluzione qualora non ci sia un parametro name con la vostra lingua di sistema specificata allora nel mio caso è italiano svizzera nel vostro caso che so potrebbe essere italiano it maiuscolo per Italia o che ne so io di e di e per tedesco eccetera eccetera insomma n e n us inglese americano eccetera eccetera insomma ci sono queste codifiche particolari delle lingue non si è nemmeno obbligati a mettere questo basterebbe anche quello generico perché noi se usiamo il nostro skill sul nostro sistema sappiamo cos'è è abbastanza il name se vogliamo proprio essere raffinati ci mettiamo magari anche nelle varie lingue o se magari il nostro script è destinato ad essere distribuito possiamo aggiungere altri name non è limitato a due voci di name posso continuare aggiungere name in altre lingue francese tedesco inglese eccetera io ne ho messo uno per mostrarvi com'è la sintassi ecco e quindi se voi aggiungete più ne aggiungete più lingue sono riconosciute dal vostro file .desktop e se consegnate quel file a un tedesco un francese un inglese automaticamente gli verrebbe esposto il nome del programma nella sua lingua ecco è questo lo scopo diciamo che quello obbligatorio se vogliamo così è quello generico quello che dovrebbe valere per tutti che solitamente negli altri programmi è quello in inglese e poi c'è la voce laddove è stato tradotto nella lingua specifica ecco proprietà terminal ecco questo è importante che è quella praticamente che distingue il comportamento del lanciatore per lo script praticamente quando abbiamo fatto doppio clic sullo script 14 abbiamo visto esegui che vuol dire senza terminale oppure esegui nel terminale ecco questa è la stessa voce corrispondente quindi il terminal true quindi vero in inglese vuol dire usa il terminale sarebbe esegui nel terminale se io scrivessi false cioè false falso in inglese qui basta sostituire true con false vuol dire che non apre un terminale quando fa partire lo script perché non ne ha bisogno poi exec eccolo qua exec naturalmente importante exec vuol dire dare tutto il percorso e lo script che deve essere eseguito ovviamente ovvio qui ho già impostato come esempio il corso script bash finale cioè lo script che raggruppa un po' tutto quello che presenterò che commenteremo nel prossimo video conclusivo è proprio lo script bash finale però nulla toglie che possiamo mettere anche il nostro script parte 14 ecco possiamo anche farlo perché no potrei metterlo parte 14 ecco qua così l'ho scritto giusto ci mettiamo il punto sh salviamo così poi lo proveremo poi il commento ecco c'è il parametro commento nel quale appunto si può inserire un commento per spiegare brevemente cosa fa perché no cosa fa il vostro script il programma eccetera eccetera anche il commento come potete vedere può essere messo in più lingue quindi quello generico e quello della vostra lingua del sistema o di altre lingue le quali prevedete di integrare o di poter eseguire il vostro script ecco il commento appare nella proprietà commento che vedremo fra un attimo ma prima raggruppiamo le due voci c'è anche generic name ecco generic name anche lui parallelamente al commento può essere impostato in più lingue sempre è una stringa nella quale si descrive che cosa fa lo script cioè sembra così un po' una cosa in doppio diciamo subito che entrambi prima di tutto sono opzionali non siamo obbligati a metterli però se vogliamo completare per bene il nostro lanciatore lo mettiamo quindi generic name è una descrizione che si può mettere quindi qui si descrive cos'è o cosa fa lo script è un commento non so fate voi fate un commento lo script tipo questo script è eccezionale e qui esegue questo e questa è quell'operazione che ne so ecco comunque avete due campi disponibili per dare delle indicazioni a chi lo usa o comunque descrivere qualcosa del vostro script queste due proprietà questi due parametri vanno a finire ve lo mostro nelle proprietà ecco qua che appaiono nelle proprietà di un file desktop punto desktop è un po' particolare quindi le proprietà qui nel generale nella scheda generale si adeguano a un file tipo desktop e vedete che appaiono questi campi vediamo un po' vediamo di magari facciamo così qui facciamo così così lo vediamo benino per benino allora il nome del file non ci interessa vedete che il generic name ho detto che è la descrizione il generic name vedete tra parentesi descrizione esegue lo script bla 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 vedete che nel campo descrizione in effetti ci ritroviamo descrizione esegue bla 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 il campo commento vedete tra parentesi commento e qui ci mostra commento eccetera eccetera quindi vedete il comment va nel commento come ci si può aspettare e il generic name che non si chiama description vabbè chi ha deciso di creare questi tipi di file ha detto che deve chiamarsi generic name va a finire sotto la descrizione la cosa interessante che volevo farvi notare a proposito delle lingue già già che siamo sul caso pratico vedete che io usando il sistema ubuntu impostato con la lingua italiano-svizzera locale il mio locale localizzazione linguistica italiano-svizzera vedete che tra parentesi descrizione tra parentesi tra parentesi commento parentesi mi appare viene presa come la lingua valida da visualizzare e non il commento generico senza lingua impostata e non la descrizione generica senza lingua impostata perché qui non c'è tra parentesi commento e qui non c'è tra parentesi descrizione quindi vedete il meccanismo delle lingue come funziona per i file desktop non avessi specificato la mia lingua specifica avrebbe preso quello generico e quindi senza descrizione commento tra parentesi invece vedete che aprendo le proprietà del file mi mostra quelle della mia lingua ecco se qui ci fosse la stessa string in francese o in tedesco e un francese o in tedesco aprissero le proprietà gli apparirebbe la stringa specifica vedete la differenza fra le due e la differenza qua cioè e qui mostra quello della mia lingua del mio sistema niente male ok chiudiamo le proprietà e andiamo avanti così anche l'icona in sé credo non sia obbligatoria avrebbe assegnato un'icona generica però io per farlo carino ho voluto assegnarli comunque un'icona avete visto l'icona di ubuntu si trova è un'icona stock icon quindi generica di quelle di sistema già presenti nell'installazione del sistema voce icon e appunto quando si attiva il lanciatore appare questa icona ecco tutto qua quindi potete anche naturalmente seguire sempre il mio testo accompagnatorio qua e capite che non è niente di complicato sono dei parametri che poi una volta impostati sono a posto così ecco adesso abbiamo impostato il lanciatore così possiamo anche provarlo quindi lo rendiamo eseguibile appare la nostra bella icona se facciamo doppio clic vediamo cosa succede ecco qua vedete doppio clic è partito il nostro terminale perché gli abbiamo detto vero il terminale quindi parte a terminale e poi si fermi perché abbiamo messo la pausa appositamente faccio enter e si chiude diciamo che il lanciatore è un passo più comodo del semplicemente rendere eseguibile lo script perché rendere eseguibile lo script ha questa finestra appare sempre questa finestra intermedia mentre questo è diretto come un vero programma faccio doppio clic che parte direttamente non mi chiede più nulla perché sa già cosa fare sa di farlo partire a terminale e che voglio farlo partire quindi è più immediato è proprio diciamo così la soluzione più raffinata finale per far partire il nostro script non è finita qui ultimo passo non è necessario che io debba posizionarmi in una cartella particolare per far partire il lanciatore che adesso lo faccio tornare non eseguibile per tornare alle origini ecco qua così il lanciatore si può archiviare in questa cartella che tutti noi nella nostra home abbiamo una cartella nascosta vedete home è la nostra home puntino local quindi è una cartella nascosta nella nostra home share application ecco a questo percorso che voi avete naturalmente nella documentazione potete mettere i lanciatori che vi interessano avere subito sotto mano nella dash di unity quindi vedete che io ho già messo il nostro il lanciatore del nostro corso finale quindi dello script finale qui l'ho già preparato precedentemente che parte in modalità grafica quindi non ha bisogno del terminale ecco che quindi dentro questo lanciatore ci sarà terminal false perché non ha bisogno del terminale ecco questo lanciatore messo in questa cartella particolare e solo in questa cartella particolare permette di essere recensito dal motore della dash quindi se io apro la dash nell'applicazione vedete che ho già cercato e cercate come qualsiasi altro applicativo cercate corso per esempio perché sapete che si chiama corso o bash vedete che viene cercato nel sistema ubuntu unity come qualsiasi altro programma eccolo qua con la sua bella icona corso script bash gui faccio enter o faccio clic sull'icona e parte il nostro script come se fosse esattamente un qualsiasi programma installato nel nostro sistema in questo caso sembra proprio un vero programma perché parte la versione con interfaccia grafica dello script finale ecco faccio annulla si esce e viene fuori anche la notifica come abbiamo imparato nelle varie lezioni ecco finito direi che abbiamo finito finalmente è stata lunga è stata dura anche prepararlo questo corso come credo sia stato duro anche per voi se mai ci siete arrivati in fondo se avete resistito complimenti a voi perché sarà dura anche seguirlo questo corso ecco come ho detto nel primissimo video questo è un canale che è dedicato più ai non esperti che non agli esperti più ai principianti che agli specialisti pur non escludendoli gli specialisti e quindi non so se con un'iniziativa come questa di un corso un po' specializzato e specialistico come questo abbia fatto una cosa buona e giusta o meno questo me lo direte voi con le vostre reazioni nei commenti o scrivendo nella posta del canale youtube fate voi e quindi saprò anche se ho esagerato raccontando qualcosa di troppo specializzato troppo complicato o meno o se magari può essere una buona idea in futuro chissà ideare qualche altra serie di questo tipo ecco comunque come sempre anche se sono stato utile ad uno solo di voi ritengo di aver raggiunto lo scopo per me comunque anche se è faticoso preparare questi video è impegnativo è comunque un piacere se no non lo farei e vi ringrazio comunque già sin d'ora per la vostra attenzione e per il vostro interesse e per quanti siete sempre che siete iscritti a questo canale che seguite con interesse quanto viene proposto ultima nota come ho già detto all'inizio del video c'è ancora un video di fuori delle lezioni nel quale vorrei brevemente così succintamente commentare lo script finale cioè quello che io ho composto con le varie parti che abbiamo imparato nelle varie lezioni non ho proprio non sono riuscito proprio a usare tutto 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 quanto abbiamo visto nelle 17 lezioni però ho cercato insomma di formulare questo script in modo da usare il più possibile anche perché vi resta come modello naturalmente così come tutti gli iscritti delle varie lezioni anche quello finale che si chiama proprio corso script bash finale lo vedete qui è uno scritto un po' più esteso un po' più corposo e che può restarvi come modello e come spunto ecco con questo io concludo questa mia prima serie di studio diciamo così il primo tentativo vi ringrazio tantissimo per il vostro interesse che spero ci sia naturalmente non posso saperlo a priori vi saluto un saluto ciao ciao e alla prossima